il marito sta uscendo per lavorare la moglie lo saluta ciao caro allora questa sera devi uscire un'ora prima perché perché dobbiamo andare a fare acquisti visto che la settimana prossima vengono a trovarci i miei quindi dobbiamo comprare tante cose per preparare il soggiorno a casa nostra e non so se mi danno il permesso per uscire prima tu chiediglielo va bene ci provo ciao così il marito entra a lavorare e va dal capo scusi potrei uscire un'ora prima oggi come mai perché mia moglie vuole che l'accompagna a fare acquisti al centro commerciale visto che la prossima settimana arrivano i miei suoceri non mi sembra una buona ragione lei finirà di lavorare come tutti gli altri giorni grazie capo le sarò riconoscente per sempre e la settimana prossima per gli straordinari conti pure su di me